Ciao amici di Arcadia, sono appena rientrata nella sede della nostra associazione e ho notato che sul mio calendario, accanto alla data dell'8 aprile, c'è una piccola nota, ossia Roma sottosopra, avventure nei sotterrani, la basilica di San Clemente e i suoi sotterrani replica. Questo perché il precedente appuntamento ha riscosso così grande successo che non c'è stato possibile purtroppo accettare tutte le prenotazioni pervenuteci, per cui abbiamo deciso di replicare l'evento presso la basilica di San Clemente e i suoi sotterranei, proprio per offrire a tutti gli esclusi e non solo, la possibilità di partecipare con Arcadia a questo viaggio indietro nel tempo. Però, nuovo appuntamento, nuovo indovinello. Questa volta vorremmo sapere qual è il nome di uno dei due santi che trasportò le reliquie di San Clemente a Roma, presso quella che poi venne considerata la prima basilica dedicata appunto a San Clemente. Vi do un piccolo aiuto, come sempre. Si dice che dal nome di questo santo derivi il nome di un particolare alfabeto utilizzato in alcuni paesi, in alcuni paesi che fanno parte della federazione russa. Come sempre, al primo bambino che arriverà con la risposta esatta, regaleremo un coloratissimo gadget di Arcadia. Per cui, amici, vi do appuntamento a domenica 8 aprile, in piazza di San Clemente, raduno ore 15, partenza ore 15 e 30. Nel frattempo, in questi giorni di attesa, continuate a seguirci su tutti i nostri canali, Facebook, Instagram, Twitter, sul nostro sito internet e a scriverci se volete sulle nostre mail. A presto amici, ciao! Grazie a tutti!